Scusiamo? 3, 2, 1 Ma te è stata una sofferenza, però forse partite così possono aiutarvi a crescere? Sicuramente queste partite ci aiutano a crescere perché il livello di gioco era altissimo Loro rischiano tanto, hanno giocato molto bene Ci hanno messo tanta pressione, soprattutto il primo set come si è visto Però comunque noi siamo stati bravi a non molare, anzi a alzare i nostri giri E a riuscire a girare questa partita che si metteva un po' difficile dopo il primo set È stata una gara condizionata anche in questo caso dal servizio Trento però ha risposto con un'ottima ricezione, con un ottimo gioco di squadra Sì, devo dire che il fattore campo questa serie ha dato il suo valore Perché chiunque giocava in casa, poteva più forte E questa è stata la cosa che ha fatto la piccola differenza Nervi saldi dopo il primo set Scusa? Nervi saldi dopo il primo set Non tanto, però comunque siamo stati bravi E adesso una semifinale con Modena che ti ricorderà qualcosa Speriamo che finisce come l'ultima semifinale